Muoversi in modo sostenibile, interagire con i cittadini, migliorare il trasporto e proiettarsi sempre più verso quei lavori cosiddetti green. C'è stata tanta voglia di concretezza nel dibattito all'americana che si è tenuto ieri al FASE, fabbrica seriana energia di Alzano Lombardo, organizzato dal Consorzio Compere. Proposte reali presentate dagli studenti dell'Università degli Studi di Bergamo per migliorare la nostra città rendendola sempre più smart, intelligente e tecnologica. E soprattutto una convinzione su tutte per fare una smart city servono degli smart citizen, ovvero la partecipazione della cittadinanza è fondamentale per creare le città intelligenti. Sono stato un po' provocatorio, ma credo che abbia colpito nel segno una città più intelligente, tutta una serie di interventi più intelligenti. Un modo di vivere nuovo può avvenire solo in collaborazione con delle iniziative a livelli più alti. Non è solo il cittadino che deve volerlo, ma deve essere una cultura che deve essere imposta quasi, poi si sta meglio. 8 minuti accordati agli studenti per proporre la propria presentazione su un tema specifico della sostenibilità. 5 minuti invece il tempo a disposizione dei BIG per rispondere al progetto con le proprie osservazioni. Vorrei che ci fosse un continuo dialogo con questi ragazzi giovani, magari anche inesperti, ma non certo cerbi, perché dagli studi che hanno fatto, da quello che ho visto, vanno molto nel profondo. Però in questa fase quasi di contestazione devono riuscire a capire di portare questa loro protesta in un confronto. La necessità è di toccare il tema ambientale, ma di toccarlo al sistema. Vogliono essere partecipi del cambiamento di adesso.